Fratelli d'Italia perché risponde a quelle che sono le mie idee, le mie ideologie. In questi mesi, infatti, come tutti sanno, qua in questa realtà di Mortara ho frequentato un po' tutti i partiti, come ho detto prima in conferenza stampa, e alla fine ho scelto di schierarmi per Fratelli d'Italia perché rispecchia quello che è il mio pensiero personale, quello che è a livelli nazionali e quello che è anche a livello territoriale. Laura Gardella aderisce a Fratelli d'Italia. Dopo le voci incontrollate delle ultime settimane, è una conferenza stampa a ufficializzare il passaggio della consigliera comunale mortarese al partito guidato da Giorgia Meloni. Un passaggio che ha non poche conseguenze. Il primo è che Gardella esce definitivamente dalla maggioranza. Eletta nelle fila della lista civica Viviamo Mortara, la consigliera aveva mostrato il suo dissenso addirittura già durante la campagna elettorale, contestando il modo in cui venivano assegnati i ruoli all'interno del movimento. Un dissenso che poi è aumentato al momento di nominare la Giunta, che l'aveva vista esclusa dagli assessorati, nonostante le cento preferenze che facevano di lei la seconda candidata più votata della lista civica. Per tutta risposta, Laura Gardella in consiglio comunale ha sempre votato in maniera autonoma, spesso anche contro quella che fino a ieri era la sua maggioranza. Con l'adesione a Fratelli d'Italia, comporrà un gruppo autonomo che si collocherà all'opposizione. Il partito ha salutato con favore l'ingresso della consigliera, affidandole immediatamente un incarico di prestigio. Laura Gardella sarà infatti candidata alle prossime regionali. Il suo è il primo nome sicuro e confermato dalla dirigenza in una lista che deve ancora essere definita. Sono immensamente felice della scelta che Fratelli d'Italia ha fatto su di me per il territorio e candidarmi in Regione Lombardia. Sarà una grande corsa dove metterò il mio massimo impegno e cercherò ovviamente di farmi conoscere in questi brevi giorni su tutto il territorio della Lomellina. Affronterò questa campagna elettorale come ho affrontata quella delle comunali di Mortara con il massimo impegno. Questa volta devo dire con una spinta in più perché a seguito di questo grande riconoscimento che mi ha dato Mortara, che è la mia roccaforte, mi ha dato la voglia di provare questa grande corsa verso Regione Lombardia. Ed è una corsa che farò con il massimo impegno e con il massimo delle capacità che ho. Che cosa succede in Consiglio Comunale a partire da oggi? In Consiglio Comunale chiediamolo alla Giunta e agli altri consiglieri che cosa succederà da oggi. Io ho scelto con chi stare, quindi direi che la mia risposta è molto chiara e molto semplice.